prima giornata da giocatore trentino per daniele mazzoni una toccata e fuga per conoscere un po l'ambiente anche per fare alcuni test e la prima impressione ma si respira una bella ambiente speravo di trovare qua almeno in trentino un po di frescura invece anche qual grande caldo è arrivato e per ora sto per adesso sto cominciando a conoscere un la società sto appuntando qualcosa con martin poeder per per fare qualcosa in questi in quest'ultimo mese per arrivare al meglio alla preparazione hai già detto durante i comunicati stampo durante le scorse settimane cosa ti ha convinto a scegliere trento ma ho scelto di venire a trento per per cambiare diciamo una scelta di andare in una squadra molto seria una squadra navigata e di mettermi magari più in retrofila cercando di imparare da chi mi sta davanti da chi sicuramente più forte di me ha molta più esperienza per cercare di capire i vari segreti di ognuno per farli miei però tu un po di esperienze in superlega già maturata avendo giocato nelle ultime due stagioni sempre titolare sempre nella massima categoria nazionale sì ho fatto un po di esperienza non ho mai trovato non ho mai avuto non ho ancora avuto quell'anno in cui sono migliorato così tanto da appunto far parte di una società così importante come trenti come il trento e spero che questo sia l'anno buono da avversario che effetto fa giocare contro trento o arrivare qua al pala trento arrivare al pala trento e come essere in un tempio del volley e fa un grandissimo effetto mi ricordo l'anno di molfetta che sono venuto qua ti guardi attorno e dici che realtà e poi sei arrivato con un proclama che i giornali locali hanno già colto perché di fatto dicendo che ti ispiri a birarelli hai sfondato una porta aperta almeno qua in trentino sì so che qua albira è ben amato e ben voluto da tutti come non potrebbe non esserlo visto che l'ho conosciuto è una ottima persona e ottima persona e anche ottimo atleta perché pur avendo 34 anni non si risparmio mai si allena sempre al massimo e infatti i risultati si vedono ancora un po di tempo per fare ferie per riposare poi si inizierà la grande ci saranno tantissimi impegni sì spero qualcosa un po di sole l'ho già preso e spero di prenderne ancora un po farò una vacanza di una settimana intanto non ho mai smesso con i pesi e non smetterò e poi quasi ricomincerà a pieno inizieranno anche i tifosi a seguirvi in maniera sempre più attenta perché nella prossima settimana inizia la campagna abbonamenti un messaggio proprio per i tifosi che iniziano a conoscerti anche grazie a questa video intervista guarda io voglio vedere anche il l'apporto dei tifosi soprattutto dai primi allenamenti per farci subito assaporare il loro calore alle prime amichevole primi allenamenti e vi vogliamo in palestra ci vediamo al palo a trento ci vediamo al palo a trento